Aria Danza La direttrice Gaia Lemmi, giudice internazionale e docente in concorsi in seminari in Italia, in Russia e in Grecia, Brasilia, Olanda, Malta, Italia e Spagna. Per la serata tutte le coreografie sono di Jefferson Pelagatti e infatti proprio Jefferson Pelagatti sarà il coreografo di MEPF, la prima coreografia di Aria Danza. La direttrice Gaia Lemmi, giudice internazionale e docente in concorsi in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia. La direttrice Gaia Lemmi, giudice internazionale e docente in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia. La direttrice Gaia Lemmi, giudice internazionale e docente in Italia, 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 in Italia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.